Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dunque Sacchi parla ancora. Oggi dichiarazioni, la Juve è una storia nazionale che è un limite. Sa gestire i campionati ma non ha contribuito alla crescita del nostro calcio. Questa è io credo una delle più grosse troiate che io abbia mai sentito da un allenatore. Ma poi proprio da Sacchi adesso analizziamo un po'. Intanto la Juve non ha contribuito alla crescita del nostro calcio però ha 11 trofei internazionali e l'unica squadra in Europa ad aver vinto tutte le competizioni della UEFA. La Juve ha vinto la Coppa UEFA tre volte che allora quando la Juve ha vinto quelle tre Coppe UEFA la Coppa UEFA sarà più difficile che vincere la Coppa dei Campioni. E questi sono dati di fatti. La Juve ha vinto la Coppa delle Coppe. Ha vinto comunque due Coppe dei Campioni. Una Coppa dei Campioni è una Champions League. Ha vinto due Coppe intercontinentali. La Juve comunque ha vinto. Ha vinto. Potevamo vincere di più e questo io credo che sia innegabile. Abbiamo buttato via delle Coppe Campioni vinte. Ma questo... Ma dire che non hai contribuito alla crescita del nostro calcio è una stronzata e concedetemelo una stronzata. La Juve ha vinto... La Juve ha vinto quattro mondiali perché non li ha vinti l'Italia. Li ha vinti la Juve. La Juve è la squadra con più mondiali... con più giocatori che ha vinto il mondiale. E quelli che ha vinto l'Italia come ho detto prima li ha vinti la Juve. Non li ha vinti l'Italia perché nell'82 avevamo 9 undicesimi di giocatori della Juve. Nel 2006 6 undicesimi. Juve. Finale di Coppa del Mondo 2006. C'erano tutti e 11 giocatori della Juve titolare. Mancava solo Ibrahimovic. Erano 10 più Ibrahimovic. Perché tra l'Italia e Francia erano 10. Ok? Quindi già questo è una cazzata. Perché dimostrazione che la Juve comunque al calcio italiano ha sempre dato tantissimo. Ha sempre dato tantissimo. Ok? Ok. E ha dato molto di più al calcio italiano a livello nazionale di quello che ha dato il Milan. Ok? Ma al di là di questo... al di là di questo la signora Sacchi Arrigo che è un incompetente e lo dico papale papale è stato uno degli allenatori più incompetenti della storia del calcio. Ma ha vinto. Vincere non vuol dire che se uno vince diventa competente. Intanto con quella squadra lì ha vinto un campionato che è molto più difficile che vincere la Coppa a campioni. Con quella squadra lì io l'avrei esonerato solo per il fatto che ha vinto un campionato. Poi dici ma ha vinto le coppe. Ha vinto le coppe. Ha vinto le coppe di qua. Avete sentito l'intervista di Van Basten che diceva a noi a un certo punto abbiamo dovuto prendere e dire noi facciamo quello che ci pare. E da lì han vinto. Perché se facevano quello che diceva questo signore qua. Il Milan usciva. Il Milan usciva. E ve lo dico di più. Il Milan passa il turno nella sua prima Coppa di Campioni vinta con questo signore qua in panchina. Che se l'arbitro decide di andare avanti e finire la partita. Mancavano 5 minuti. Il Milan era a casa con lo Stella Rossa e i quarti di finale. Andava a casa. E questo qui non avrebbe vinto niente. Avrebbe portato al Milan 0 Coppe internazionali. 6 Coppe in meno. 6 Coppe in meno. Perché poi uscendo lì non avresti partecipato all'anno dopo. Per l'anno dopo il Milan partecipa alla Coppa dei Campioni da campione uscente. Non da campione d'Italia. Perché quell'anno lì poi lo vince il Napoli. Il Milan poi non avrebbe potuto partecipare alle due Supercoppe Europeo e alle due Intercontinentali. 6 Coppe in meno. E parla. E parla. Ma cosa cavolo parli? Ma stai zitto. Stai zitto. Perché caro Sarri. Quando Sacchi è stato chiamato da Berlusconi. Berlusconi prima di lui aveva chiamato un altro allenatore dicendo che tanto con questa squadra qua non ci serve un grande intenditore di calcio. E chiamò Dan Peterson l'allenatore dell'Olimpia Milano Dan Peterson. Se vi ricordate in quel periodo di Berlusconi aveva comprato anche anche la scuola di basket. Cioè Dan Peterson. Cioè il balottaggio era tra lui e Dan Peterson che già questo è umiliante. Già questo è umiliante. E fa il maestro di calcio. Ma Sacchi è uno che di calcio non ci ha mai capito una sega. Lo dimostra. Lo dimostra il dopo. Il dopo. Perché qua è facile. Ha vinto con Van Basten, Gould, Rijka, Donadoni, Cielotti, Albertini dopo. Insomma aveva una squadra con cui avrei vinto probabilmente io in panchina. Avrebbe vinto probabilmente il mio vicino di casa in panchina. Ho qua un meccanico che lavora vicino a me. Probabilmente lui di calcio neanche segue il calcio. Ma quel Milan lì avrebbe vinto anche lui in panchina. Visto che non c'erano le squadre inglesi. Perché bisogna ricordare anche che non c'erano le squadre inglesi. E si è trovato in finale anche squadre diciamo non sempre superbi. Visto che ha giocato contro lo Steava Bucarest per dire no. Per far capire il signor Sacchi. Però poi cosa succede? Che Berlusconi che non è scemo si rende conto che Sacchi che vinga mette Capello. E Capello vince tre Scudetti e una Coppa Campioni. Sferando la seconda che detto da non milanista con quello che è venuto fuori dopo. Con Marsiglia che è venuto fuori dopo che erano pure dopati. Probabilmente il Milan avrebbe vinto anche quella con Capello. Capello avrebbe vinto le stesse cose a livello europeo di Sacchi più più tre campionati. Quindi senza proprio senza proprio far fatica. Allora cosa fa? Va in nazionale Sacchi. Perché in nazionale deve far vedere quello che è capace di fare. E cosa fa? Ragazzi usciamo se lì Baggio non si fa i cavoli suoi e decide di prendere il gruppo in mano e dire adesso comandiamo noi. E queste sono cose che c'è scritto da tutte le parti. Italia esce gli ottavi. Baggio da solo ti porta in finale. E quella finale lì poi era da vincere. Un altro allenatore l'avrebbe vinta. Quindi è anche quella. Poi fa. Torno al Milan. Casa mia. Però non è più il Milan di Van Basten, Gullit e Raikard. È il Milan con cui poi il signor Zaccheroni che è sempre sottovalutato come allenatore ci vince il campionato ogni dopo. E cosa fa? Lui viene buttato fuori con Rosenborg e poi a San Siro ci regala una delle più grandi gioie a noi Juventini ma soprattutto regala ai tifosi del Milan una delle più grandi figure di merda della loro storia. Perdi 6 a 1. Un allenatore che arriva a perdere 6 a 1 così? Cioè nessuno si chiede ma come mai questo allenatore nel 90 vinceva poi non ha più vinto niente? Non è mai riuscito più a far nulla? Lo sappiamo tutti perché? Perché semplicemente è uno che di calcio non ci ha mai capito nulla. Il signor Berlusconi l'ha soprannominato il cul de sac che a Milano cul de sac vuol dire quando c'è una strada senza uscita ma in questo caso intendeva la fortuna di Sacchi perché Sacchi ha sempre avuto gran fortuna e ve l'ho elencata prima la nebbia la nebbia la sospensione della partita per nebbia 5 minuti dalla fine. Quella fu un capolavoro quella fu un capolavoro non un capolavoro non è che però fu un capolavoro di culo nel senso che un altro arbitro lo mandava avanti ormai finiva la partita e il Milan era a casa e lui è resonerato e se lo sarebbero dimenticati tutti. Poi ogni volta tocca la Juve ma fatti i cacchi tuoi ma tu pensa a te stesso pensa a te stesso però anche se non fa così non se lo caga più nessuno perché non sono tutti tutti c'è anche i milanisti molti ragionano è molti ragionano e si rendono conto che sacchi non è che sia così ah io mi ricordo tra l'altro sa che contro una Juve superba una Juve fortissima formata da galia casiraghi di agostini è talmente forte che non mi ricordo come si chiama un rubaro ha perso tre euro con la Juve ha fatto la fine di coppa italia e ci ha lasciato le penne perché la coppa italia l'abbiamo vinta noi con una squadra che faceva pena eppure abbiamo vinto la coppa italia eppure lui fa il fenomeno io fossi invece sacchi andrebbe sacchi è come il cobolli giri di turno che andrebbe fatto nascondere per quello che ha combinato tra milan dopo e nazionale no però è ancora incensato perché ha vinto due coppe dei campioni allora se non capite non capite che intanto quelle coppe dei campioni le avrebbe vinte chiunque ma che non si discute solo sulla coppa dei campioni ma si discute nel corso del di tutta la sua carriera e sa che ha dimostrato di capirci poco perché molte volte le formazioni come è successo anche con ancelotti solo che ancelotti un carattere un pochino più più tosto le formazioni le faceva berlusca forse forse a questa cosa ci arriverete forse forse io tra ancelotti e sacchi pur non amando neanche ancelotti ma io non ho dubbi scegliamo ancelotti ancelotti sacchi cappello e rocco sono i quattro che hanno vinto la coppa col milan sicuramente sacchi il quarto di questi perché c'è rocco di superiore che una squadra inferiore ha vinto la coppa campioni cappello per me con una squadra inferiore di quella che era questo signore qua ha vinto la champions ha vinto tre campionati e lui di campionati ne ha vinto uno ricordiamolo è ancelotti comunque ha vinto due champions secondo me negli anni che aveva al milan peggiore perché poi milan è migliorato con gli anni ma 2003 2007 milan non era quello quello con cui poi ha giocato attraverso quel periodo lui ha avuto una squadra che doveva solo vincere per solo vincere e ha vinto ricordiamo due coppe campioni bisogna dargliene atto due coppe supercoppe due coppe intercontinentali va dato atto ma va dato anche fatto atto il fatto che non c'erano squadre inglesi e che se c'era la nebbia con la nebbia a belgrado lui sarebbe andato a casina al primo anno al primo anno e ha vinto un campionato un campionato con la squadra nettamente più forte voi prendete avete fatto un culo noi juventini mi ha fatto un culo ad allegri così voi prendete il signor massimiliano allegri il signor massimiliano allegri cinque anni se vi porta a casa soltanto un campionato cosa avreste fatto con la juve che era nettamente più forte di tutte le altre l'avrebbero linciato lui invece è santificato vi dico solo che il signor adriano galliani due settimane fa mi hanno chiesto a galliani chi è secondo lui stato il miglior allenatore della storia del milan che da quando c'è lui e ha risposto massimiliano allegri vi dico solo questo però sa chi continua a pontificare perché vai bene intanto la juve è l'unica squadra che ha vinto tutte le coppe europee e soprattutto non si è non è è una situazione in questo momento sana poi noi magari non la vinceremo la champions ma devono continuare a sperare che non la vinciamo questo ve lo dico perché il giorno che la juve vince la champions che si crea una mentalità europea vincendo magari una finale fatta bene che ne so 2 a 0 3 a 0 saranno cazzi amari per molti altri perché a quel punto sarà solo l'inizio e rischiamo di fare quello che ha fatto il barcellona di vincerne tre in sei anni e allora poi dopo la paura viene fuori perché ti senti attaccato quindi è così ciao ragazzi al prossimo video